Dopo il servizio mandato in onda da Imperia TV sulle pessime condizioni in cui versa il quartiere della foce di Imperia, ora dal comune è giunto l'annuncio della ripresa dei lavori per l'adeguamento degli sfioratori delle fogne. Le ruspe che avevamo inquadrato immobili si sono dunque rimesse in moto, ma i problemi restano. Infatti per eseguire le opere in mare è stato disposto il divieto di balneazione che si aggiunge al disagio causato dalla presenza del cantiere nel pieno della stagione estiva, in una zona a forte vocazione turistica. L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Zagarella ha evidenziato che gli interventi dovrebbero essere ultimati entro fine giugno e che il ritardo nell'avvio del cantiere è stato causato dalle cattive condizioni meteorologiche. Sta di fatto che ancora una volta una città che vuole puntare tutto sul turismo si trova con cantieri aperti nel pieno della stagione, proprio in zone che dovrebbero essere invece pienamente fruibili dai turisti.